lui è per coco uno dei maremmanini di quella masseria dove c'erano anche tutti gli altri cuccioli maremmanini con nomi di frutto a cui non è arrivata nessuna richiesta di adozione nonostante la sua dolcezza il più affettuoso di tutti e ha anche gli occhi un po sul verde oliva diciamo lui è molto molto giocherellone ma non è proprio esagitato non gli piace posare per le fotografie preferiva venirci addosso però guardate quando lo accarezziamo si sta tranquillamente vediamo sono i dentini dei cinque mesi sì cinque mesi non sei è ancora un cucciolo i cani di taglia grande come vi ho detto per gli altri a cinque mesi sono davvero cucciolini perché raggiungono la maturità molto molto tardi quindi inseritelo tranquillamente con altri cani se ne avete possibilmente facciamo l'abbinamento maschio femmina preferiamo andiamo sul sicuro ma guardate che dolcezza per coco speriamo che sia fortunato a questo giro perché come vi dicevo io avevo fatto foto e video a loro non le ho mai pubblicate perché ho perso ho perso proprio il video e tante altre cose e quindi niente loro non si trovano su youtube per questa ragione è la prima volta però li abbiamo pubblicati sulle pagine di adozione e hanno riscosso diciamo successo tranne lui e qualcun altro diciamo che alla fine hanno adottato soltanto le femminucce due femminucce sono ancora in quattro in canile non è giusto fate un pensiero serio buona fortuna per coco sei dolcissimo ciao amore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti